E dopo tanto tempo ritorna anche Fedez che spiega la sua lunga assenza dei social, dei vari problemi che ha avuto di salute e del rapporto con la moglie e i figli e naturalmente dà anche dei consigli. Buona visione. Eccomi qua dopo una lunga lunga assenza, un periodo in cui non mi avete visto propriamente in forma e eccomi qua a raccontarvi un po' quello che è successo. Anzitutto ci tengo a ringraziarvi per i messaggi di vicinanza che mi avete mandato, grazie davvero. E in seconda istanza ci tengo a raccontarvi quello che è successo perché escono quotidianamente notizie su me e la mia famiglia che non sono corrispondenti al vero e è giusto insomma che vi racconti io quello che è successo. Da dove partire? Purtroppo devo partire da un po' indietro, ovvero da quando mi è stato diagnosticato il tumore al pancreas. Per quanto privilegiato possa essere è stato un evento molto traumatico e solo oggi ho realizzato di quanto non mi sia preso cura della mia salute mentale rispetto a questo evento e mi si è affidato solo a psicofarmaci che ho cambiato nel corso dei mesi fino diciamo a trovarne uno che proprio non era indicato a me. Ecco. da gennaio mi è stato prescritto questo psicofarmaco, questo antidepressivo molto forte che mi ha cambiato molto, mi ha agitato tanto e mi ha dato anche degli effetti collaterali dal punto di vista fisico molto forti fino al punto di provocarmi dei tic nervosi alla bocca e da impedirmi di parlare in maniera libera. Avendo questo farmaco, avendomi dato degli effetti collaterali molto forti, l'ho dovuto sospendere senza scalarlo. Per chi non ha dimestichezza con i psicofarmaci solitamente non si fa questa cosa a meno che non ci siano dei rischi importanti. Io correvo dei rischi importanti e quindi ho dovuto sospenderlo in maniera repentina e mi ha provocato una cosa che si chiama effetto rebound, che è una cosa che non auguro a nessuno e vi spiego cos'è. Oltre a darmi un annebbiamento importantissimo a livello cognitivo, mi ha dato dei forti spasmi muscolari alle gambe che mi hanno impedito per diversi giorni di camminare, sensazioni di vertigini molto forti, mal di testa incredibili, nausea forte, ho perso praticamente 5 kg in 4 giorni. Insomma, non una bella cosa che mi ha impedito di svolgere il mio lavoro, motivo per il quale non sono potuto essere presente alla presentazione di LOL, non ho potuto presenziare al processo per la strage di Corinaldo. Insomma, diverse cose. Ad oggi non sono propriamente al 100%, nel senso che le vertigini, ho ancora un po' di vertigini, ho ancora un po' di scalmane, di sudorazioni pazze, però giorno dopo giorno miglioro, ecco. Basta, adesso devo rielaborare quello che vi devo dire. Per quanto questo periodo sia stato parecchio infelice, mi ha fatto capire tante cose di come ce la faccio. Dicevo, questo periodo mi ha fatto capire quanto io voglia focalizzarmi sulla mia salute mentale e soprattutto quanto voglia focalizzarmi sulla mia famiglia e su mia moglie, che in questo periodo ne sono state dette di tutte e di ogni su di lei ed è l'unica persona che mi è stata a fianco in questo periodo e mi spiace che abbia dovuto subire una tempesta di merda mediatica totalmente immeritata. Quindi, insomma, se posso darvi un consiglio che qualsiasi evento traumatico della vostra vita vi possa accadere, prendetevi cura della vostra salute mentale, prendetevi cura delle vostre ferite, perché se non lo farete saranno le vostre ferite a reclamare il bisogno di essere curate nella maniera a volte anche più brutta possibile. Niente, basta, questo è quanto. Questo era il riassunto dei miei due mesi di merda. Ci tenevo a ringraziare nuovamente mia moglie perché ha dovuto badare a una famiglia intera a me in questo periodo e non è per niente scontato. Sono veramente un uomo fortunato. Buona serata a tutti e un bacione. Piccolo addendum, prendersi cura della salute mentale, cosa significherà per me nei prossimi mesi, affrontare tutti gli eventi traumatici della mia vita nella maniera più complessa, più insalita e forse più dolorosa, ovvero quella della terapia, senza cercare scorciatoie come ho cercato di fare in questi mesi. Ecco, non cercate scorciatoie perché possono farvi male, ecco.